Tragedia sfiorata a Noto, un escursionista in stato di potermia salvato dai Vigili del Fuoco. Vigili del Fuoco di Noto e Siracusa con il funzionario dei Vigili del Fuoco sono intervenuti nel tardo pomeriggio di ieri in soccorso di un uomo di 58 anni che si era disperso a Cava Carosello nel territorio di Noto. L'uomo si trovava in quei luoghi in qualità di escursionista. Con il concorso dell'elicottero della Guardia Costiera il malcapitato è stato ritrovato in un luogo impervio attraversato da frane e corsi d'acqua in stato di ipotermia. Immediati soccorsi da parte del personale dei Vigili del Fuoco, esperto in tecniche di derivazione speleo alpino fluviale, tratto in salvo, ha fatto ricorso alle cure dei sanitari trasportanti dai Vigili del Fuoco all'ospedale di Maria di Avola. Prezioso il contributo dei carabinieri della protezione civile di Noto. Grazie.